Grazie per questo video, grazie 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 mille, vi do 41 grazie per questo bellissimo traguardo che mi avete fatto raggiungere, io non me lo sarei mai aspettato, non me lo sarei mai aspettato, questo video che mi sono traguardo, grazie, grazie per tutti i like, i commenti, ho potuto questa cifra di 46, questo video che mi piace la scuola, io ho la crea, ho fatto un specialmente, grazie, ma ti ho fatto una chi miscola, ho questo pacileggio, ho il piccolo argento di arugare, Grazie per il sistema che ci sta guidando, faremo anche una puntata speciale che mi ha consigliato Grazie per la visione! Grazie per la visione!